Bella, come mi sento bella, con queste gambe snelle chi mi resisterà? Che gambe! Non hai un filo di cellulite? Sì, io ho un segreto. L'anticellulite della dottoressa Tirone. Vedi, l'emulsione cosmetica contiene migliaia di microcapsule vegetali che liberano al momento giusto principi attivi, studiati per combattere i cuscinetti e pelle a buccia d'arancia. Sì, contro gli inestetismi della cellulite si possono avere ottimi risultati, purché il trattamento cosmetico sia specifico e costante. Anticellulite della dottoressa Tirone, un prodotto cosmetico unico al mondo per un trattamento efficace di 30 giorni.